Adesso par 5 tiro una bomba incredibile. No, vabbè, ma già la tiro corta. Poi faccio pure uno slice assurdo, no? Ma non è possibile. No male, ma sei completamente un golfista imbruttito. Ma cos'è questo imbruttimento? Ma hai visto? Corto slice. Era proprio colpaccio, ragazzi, ragazzi. Vabbè, ma quindi vuoi una soluzione? Certo. Perché sei un golfista? Imbruttito. Quindi Ale, visto che sei completamente imbruttito, quindi sei arrabbiato, sei incavolato lunedì mattina dopo la gara. Dammi una soluzione perché non ce la faccio più. Allora, perché hai fatto questo colpo intanto? Hai fatto questo colpo perché sei arrivato dall'esterno, cioè il classico errore della domenica. Quindi si arriva dall'esterno, si schiaccia la pallina e poi ragazzi, come ce l'avevi alta sta palla? Era bassissima, alziamola un po' questa palla. Ma per prenderla meglio ti basso. Ma no che ti basso. Allora, per colpire bene la palla ci vuole un angolo d'attacco positivo. Quindi il driver deve colpire la palla in risalita. Quindi ti farò vedere un simpaticissimo esercizio. Allora ragazzi, prendete il vostro driver, impugnatelo con la mano sinistra normale e la destra la mettete sullo shaft. Sì, sullo shaft, avete capito bene. Perché dovrete fare questo movimento. Fate la salita, appoggiate il bastone un metro dietro dove mettereste la palla. Poi da qua strisciate il driver e cercate di andare su verso l'alto, sollevandoci soprale. Quindi lo facciamo un'altra volta, striscio e vado su. Una volta che siete riusciti a sentire quell'azione dal basso verso l'alto, mettete anche la mano destra e provate. Appoggiate il driver un metro e mezzo prima della pallina, strisciate e cercate di andare verso l'alto. Se lo fate in campo pratica e mettete il T di gomma, cercate di toccare il T di gomma. Una volta che avete quella sensazione lì, quindi riuscirai a colpire la palla dall'alto verso il basso, ci mettiamo sulla palla. Mi raccomando, il T bello alto, mi metto in posizione, bam e sono pronto. Alla grande! Che bomba! Per fare un colpo perfetto dal basso verso l'alto, migliorare l'angolo d'attacco e fare più distanza. Perché così non sarai più un golfista. Imbruttito! Ma per un golf? Perfetto! Perfetto!